E' un colpo da 90, quello dello Spinete che passa al Gino Gannarsa nella quart'ultima giornata del campionato di eccellenza. I matesini vanno in campo vogliosi di fare un risultato importante, soffrono e sono bravi ad aspettare il momento propizio per colpire la formazione adriatica che per l'ennesima volta conferma il suo stato negativo nelle battute finali delle partite a subire gol. Dopo tre giri di lancette Scarpone così gira in rete, un lungo lancio in profondità, va al controllo con il petto, lascia completamente sguarnita la retroguardia però va a finalizzare il gol, quello che sblocca una partita ricca di emozioni e soprattutto di reti. Fa subito il pareggio, la formazione dello Spinete, il cross è perfetto disegnato da Fraraccio per Dragone, l'ex Campobascio arriva in corsa, deve solo appoggiare in rete. Siamo solo al settimo, al nono minuto questo retropassaggio di Rossini che non si intende con Doganieri. Il pallone si spegne nella sua corsa in fondo al sacco e il gol del nuovo vantaggio dei giallorossi che però devono soffrire. Vanno a regalare l'ennesima emozione a Commelfi che regala l'assist vincente a Fraraccio che deve andare soltanto a scaricare in rete il gol del pareggio. Ancora la formazione ospite a tentare la via del gol, qui un tentativo con Rossini che riesce in due tempi a toccare la sfera in fondo al sacco e c'è il sorpasso incredibile dopo 33 minuti di gioco da parte dello Spinete. Nel finale di tempo Pezzotta costrisce per Buonavoglia che riesce a imbeccare bene Polsella. La sua conclusione addirittura con il piede destro, la palla che tocca il palo e si spegne nella sua corsa in fondo al sacco. Pari e patta 3 a 3 dopo 45 minuti di gioco. Con le immagini montate da Alessandro Lardella siamo nella ripresa ancora più emozioni nel secondo tempo dove il Termoli la fa da padrona dopo un giro di lancette questo tentativo dei giallorossi con Pezzotta che chiede il penalty per l'intervento di Diamente non troppo perfetto nel disimpegno. Ancora il Termoli con Polsella il tiro a giro con la sfera che termina di un niente sul fondo al minuto numero 10 con Doganieri che era lì pronto Termoli prevalentemente giallorossi in secondo tempo qui la conclusione che si stampa praticamente sulla traversa poi Doganieri in qualche modo è fortunato a ribattere la conclusione in calcio d'angolo dalla conclusione di Polsella la gran parata da parte di Doganieri che in due tempi riesce a neutralizzare al minuto numero 18 la conclusione di Polsella un minuto più tardi però all'occasione giusta sul piede Fraraccio la sua conclusione con il sinistro è murato da Melfi che anche in seconda battuta riesce a fermare la conclusione di Fraraccio Termoli che attacca però lascia spazi incredibili allo Spinete che rischia di trovare il gol Qui Dragone in corsa sulla linea e Caruso a salvare praticamente il Termoli nel finale ancora Termoli con questo tentativo in avanti retropassaggio di Rossini Polsella fa un gioco di gambe poi viene toccato da Diamente reclama anche qui il penalty ma non c'è assolutamente e nel finale arriva il gran gol quello firmato da Cornacchione quello che mette KO praticamente il Termoli e quello che va a regalare allo Spinete l'incredibile vittoria sui giallorossi per 4-3 Paga Dazio come al solito Grazie a tutti